ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video un video dove parliamo di illuminazione risparmio energetico con un marchio philips che di certo non è sconosciuto nuovo e inesperto in queste tecnologie questo è un video rivolto principalmente ai professionisti per proporre una soluzione con un vero risparmio energetico ai propri clienti destinato a strutture private o pubbliche perché è un sistema basato sulle classiche quadrotte in questo caso quindi quelle che possiamo trovare in uffici pubblici privati scuole studi medici ospedali insomma vari contesti dove l'illuminazione ha un impatto sul consumo importante e dove soprattutto magari ci sono dei locali dove c'è un via vai di gente che in un momento può essere presente in un momento magari no classica situazione dell'ufficio dove poi rimangono le luci accese magari per quattro ore senza che nessuno entri e in un contesto di risparmio energetico sia per l'ambiente che per la bolletta ci viene in soccorso questo prodotto di philips non è un prodotto ma è un ecosistema di prodotti che si chiama eco set wireless fondamentalmente vedremo una quadrotta della serie philips led in air dove parliamo già di un pannello da 28 watt in questo caso 4000 k 3400 lumen con delle durate lunghissime è una resa di 120 lumen a watt sistema fondamentalmente è composto dai pannelli da un sensore che sia di presenza che luminosità e sarà lui a gestire tutto l'impianto nel quale andremo a fare determinate impostazioni poi ci sarà fondamentalmente un telecomando serve nella fase di creazione dell'ambiente di lavoro in realtà ha poi anche i comandi per gestire manualmente le luci ma di fatto questo non lo useremo mai più perché fanno tutto in automatico e tra l'altro bisogna sapere che nel momento in cui andiamo a comandare l'impianto con il telecomando andiamo a disabilitare il sensore che non verrà più attivato fino allo spegnimento e alla riaccensione del nostro sistema tutto studiato per essere montato in modo molto semplice perché si tratta di montare questa quadrotta al posto di una quadrotta esistente in un controsoffitto o anche a sospensione o anche eventualmente se avete le strutture quelle che prendono i quattro lati della quadrotta ci sarà poi il sensore che va tassellato in modo indipendente oppure è predisposto per essere installato anche nel pannello della quadrotta piuttosto che in un controsoffitto in cartongesso perché basta un foro rotondo e ha già le mollette togliamo le mollette e lo tasselliamo a soffitto con la base in dotazione connessioni che sono tutte rapide a molla e questo sistema lavorerà in modo molto semplice quindi se rileva movimento tiene le luci accese dopo un tempo che viene impostato nell'elettronica del sensore le abbassa con un dimmer fino al 20% ma anche quello lo potete selezionare dopo 15 minuti disattiva completamente la luce finché non rileva di nuovo movimento capite bene che in una sala riunioni che starebbe accesa tutto il giorno se andiamo a ottimizzare questo aspetto sicuramente il cliente non potrà che esserne contento quindi tu installatore che vedi il video lo puoi proporre tu cliente che vedi il video lo puoi richiedere ma entrambi prima di andare avanti con l'installazione la messa in servizio e tutto quanto vi chiedo di iscrivervi al canale che non costa nulla così lo facciamo crescere di questi prodotti ne proveremo sempre di più ora passiamo alla fase dello spacchettamento vi faccio vedere la dotazione di quello che riceverete e poi andiamo avanti con le impostazioni e qualche test allora incominciamo dalla roba piccola adesso vi faccio vedere dunque questi sono i sensori hanno due pulsanti poi vedremo come funzionano hanno degli switch e hanno una morsettiera di alimentazione fase e neutro possono essere montati in un foro su cartongesso con le mollette oppure possono essere alloggiati in questa struttura che può essere esterna o comunque tassellata in dotazione due tasselli tutte le istruzioni per l'installazione raccomandata per i collegamenti per l'interasse dei fori abbiamo un oggetto che ha una profondità con il guscio di circa 48 mm oppure foro nel cartongesso un foro da 94 mm qui abbiamo tutta la tabella per la configurazione degli switch dove i primi due switch riguardano il tempo il terzo e il quarto riguardano il livello del dimmer poi abbiamo il 5 6 che servono per la parte della trasmissione rf dove possiamo regolare la potenza la modalità con lo switch sette che può essere normale o demo i parametri di fabbrica sono un tempo di tre minuti un dimmer del 20 per cento una potenza di trasmissione massima e una modalità di funzionamento normale tutte le istruzioni di installazione collegamento e chiusura del case e questo è quello che riguarda il sensore in questo caso ne ho due per due ambienti separati quindi ogni ambiente richiede l'installazione di un sensore abbiamo poi anche un'altra cosa molto molto utile che è il telecomando philips a infrarossi qui abbiamo tutto quello che può servire perché abbiamo pulsante di trasmissione canali impostazioni regolazioni accensione spegnimento delay abbiamo un sacco di cose che possiamo gestire già solo col telecomando qui arriviamo poi alla parte più ingombrante che è il pannello di per sé qui abbiamo alcune caratteristiche parliamo di un pannello da 28 watt temperatura 4000 k con 3400 lumen e con un ugr inferiore a 19 sempre della linea eco set wireless per risparmio energetico con quick connector allora tiriamolo fuori pannello che è chiaramente una quadrotta abbiamo la parte esterna vista con una piccola cornice bianca opaca tutta la superficie che emetterà la luce avremo poi semplicemente tramite un connettore l'alimentazione e la centralina che gestisce tutto il sistema centralina philips con tutti i dati del caso qui abbiamo il connettore che va direttamente sul pannello qui dentro abbiamo la morsettiera del 230 volt con connessione fase neutro morsetti rapidi senza terra perché tanto è tutto isolato e qui dentro non ci serve smontarla ma abbiamo comunque le connessioni per l'ingresso e l'uscita questa sarà la centralina di controllo che gestirà tutto il pannello basta alimentarla collegarla al pannello e l'installazione è finita nel manuale a corredo abbiamo tutte le caratteristiche del pannello il sistema di connessione dell'alimentazione e tutte le istruzioni per quello che riguarda l'installazione in controsoffitto o in sospensione bene ora vi faccio vedere la procedura di creazione dell'ambiente che è molto molto semplice chiaramente ci sono delle istruzioni in italiano a caratteri cubitali con le vignette non potete assolutamente sbagliare allora una volta installato tutto la procedura è molto semplice perché bisogna appunto togliere alimentazione al gruppo luci riaccenderle vedrete che si accende il sensore con un led rosso bisogna attendere che si spenga led sul sensore poi bisogna prendere il telecomando premere insieme per 10 secondi il tasto com con il tasto segnale si accenderà al led rosso sul telecomando le luci si abbasseranno possiamo andare avanti andando a premere il pulsante del sync sul sensore questo led inizierà a lampeggiare per circa un minuto facendo la ricerca e la connessione del gruppo se avete un comando a parete si può andare avanti con l'aggiunta del comando a parete oppure abbiamo finito e avremo finito quando si spegnerà il led rosso sul telecomando che chiaramente deve rimanere puntato o comunque a portata del sensore quindi vado a dare alimentazione le luci si sono accese il led rosso sia acceso a questo punto premo com più il segnale sul telecomando si accende l'ed rosso si affiavoliscono le luci vado a premere il tasto sync sul sensore lui inizia a lampeggiare sta facendo la ricerca e noi abbiamo praticamente finito ok il sensore si è spento le luci sono accese alla massima luminosità niente di più semplice da questo momento in poi il sistema funzionerà di vita propria un'accortezza nella creazione dei vari ambienti avete bisogno di alimentare e disalimentare ogni ambiente in modo separato quindi potete fare la stanza al corridoio l'ambiente che volete ma l'importante che nel momento in cui andate a fare la prima accensione per stabilire l'accoppiamento tra i dispositivi dovete alimentare solo quella zona che mi interessa quando andrete a fare la seconda alimenterete solo quella insomma la fase di configurazione dell'impianto deve essere divisa a zone poi una volta che sono stati creati gli ambienti possono stare accesi contemporaneamente da soli si gestiscono poi in autonomia in questo ambiente che ho creato con due quadrotte ho messo il sensore praticamente in mezzo alle due e non ha nessun problema di funzionamento perché rileva il movimento ma anche la luminosità ambiente che non è la luminosità artificiale creata dalle quadrotte ma rileva anche la luce esterna naturale del sole quindi in un ambiente illuminato a giorno con magari delle ampie vetrate non si accenderanno ma interverrà il sensore solo a una certa soglia di luminosità io poi ad esempio ho creato un altro ambiente con una singola quadrotta il suo sensore che lavora indifferentemente l'importante vi ricordo è configurarle accendendo dando alimentazione in modo separato adesso facciamo il test per vedere quando si attenua con il dimmer e poi proviamo anche a rientrare nell'ambiente per vedere come si rillumina a piena luce e facciamo partire il cronometro vediamo se effettivamente intervengono nel tempo impostato ok poi entro mi rilevano e tornano in modo molto soft alla massima luminosità perfetto questo è tutto un sistema che funziona benissimo ce l'ho da molto tempo installato perché volevo testarlo essere sicuro che non avesse problemi e effettivamente non ne ha avuti ho fatto poi una prova di reset dell'impianto per ricreare gli ambienti ed è possibile c'è una procedura specifica per resettare tutto il sistema sostanzialmente si tratta di alimentare e disalimentare l'impianto tante volte in base a come dicono le istruzioni ma si riesce anche a resettare ripristinare perché magari dovete modificare l'ambiente togliere mettere quadrotte quindi vari fatta la configurazione un prodotto di qualità sicuramente commercializzato da philips se siete interessati all'acquisto contattate il vostro fornitore di fiducia che sicuramente avrà il prodotto a catalogo questo è tutto se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo al prossimo video prossima diretta del giovedì sera o se passate il negozio da torino ve le faccio vedere anche in funzione perché l'ho tenuto installate lì grazie a tutti ciao da massidattoli